Immigrazione, accoglienza, integrazione del Rome, lotta alla corruzione dopo la batosta elettorale, la reazione dei 5 Stelle su temi molto popolari che spostano voti, quelli finiti soprattutto nelle braccia di Salvini. E in Parlamento, alla Camera e alla Derby, Lega 5 Stelle, si concentra sulla riforma del processo penale sulla quale tra poco in aula si vota la fiducia posta dal Governo. Ma cosa contiene la riforma del processo penale giunta al suo ultimo atto? Si parte dalla disciplina delle intercettazioni con l'introduzione del reato per chi diffonde immagini o conversazioni ottenute in modo illegale. Sul fronte prescrizione e vero nodo di scontro della riforma, i tempi vengono raddoppiati per i reati di corruzione. Previsto anche l'aumento di pena per alcuni reati come estorsione aggravata, furto in abitazione, scippo, rapina e scambio elettorale, politico mafioso. Viene introdotta inoltre l'estinzione del reato per chi avrà riparato interamente al danno attraverso la restituzione o il risarcimento.